Ragazzi con un paio di giorni di ritardo ma dovevo fare assolutamente il video Il Milan ha acquistato Samuel Ciucqueze Samuel Ciucqueze Il colpo che tutti volevamo ma che tutti o quasi pensavamo di non riuscire a prendere Perché è extracommunitario, perché si pensava che avremmo preso Taremi e non lui Perché il tifoso milanista negli ultimi 10 anni, 15 anni se vogliamo È sempre stato abituato a illudersi dei colpi Ragazzi io 10 anni fa ero convintissimo che Mr. X fosse Bastian Schweinsteiger Era arrivato Antonio Nocerino Antonio Nocerino Che poi ok ha fatto la stagione più importante della sua carriera Soprattutto a livello realizzativo con 11 gol Anche nella partita del gol di Montario Non voglio ricordare, non voglio assolutamente ricordare Poi una volta pensavo che avremmo preso Seksk Fabregas Quando mai l'hai viste al Milan questi giocatori Quindi io pensavo vabbè è già tanto che abbiamo preso Pulisic Non arriverà mai Samuel Ciucqueze Mettiamocela via Il sogno ci può stare ma la realtà è un'altra E invece no, la realtà è che Samuel Ciucqueze è del Milan 20 milioni più 8 di bonus E Gabbia in prestito secco al Villareal Al sottomarino giallo Ragazzi questo giocatore è pazzesco Dribbling nello stretto Ho visto dei video che non bisogna basarsi su Youtube Io ho visto anche qualche partita del Villareal Non solo quest'anno E vi devo dire Il giocatore è clamoroso Lo chiamano il Robben nigeriano E un motivo c'è Lui gli piace giocare con il mancino Su piede preferito E sulla fascia destra Rientra col mancino Appunto come faceva Arian Robben E uno può dire Beh ma prima o poi Gli avversari capiscono quello che fa E lo bloccano, sì Quanti gol ha fatto Robben così? Una caterba Una caterba Ora sta a vedere sul campo ovviamente Tutti i giocatori che abbiamo preso Non vuol dire che faranno benissimo Bisogna vedere sul campo E anche amalgamandoli insieme Se possono veramente fare bene Perché sulla carta Cioè sì, assolutamente Siamo una squadra super rinforzata Secondo me Manca qualche tassello Però bisogna vedere sul campo Tra qualche giorno Amichevole con la Juve Poi Barcellona Poi Monza E finalmente Bologna Prima di campionato Avremo un inizio di campionato Che è dir faticoso È dir poco Saremo praticamente In trincea Ad ogni partita Però non vedo l'ora Non vedo assolutamente l'ora Ora non so che numero prenderà Secondo me è il 22 Visto che è libero Staremo a vedere Visto che con Il Villareal Avella 11 11 Già presa da Pulisic Quindi secondo me è il 22 Ci sta E poi non vedo l'ora Di vederlo in campo Con la maglia del Milan Mettete mi piace Se vi piace appunto Questo acquisto Speriamo adesso di arrivare Ad una quadra Per il centrocampista Si parla di Musa Però si parla anche Di altre alternative Si parla di Berge Si parla di Dominguez Nel Bologna E Staremo a vedere Il Valencia Fa ancora muro Vuole 20 milioni Il Milan era arrivato A 18 Staremo a vedere C'è già il sì Del giocatore Per quanto riguarda poi Il vice Teo Da quello che ho capito Serve che sia italiano Per le liste Quindi Ho sentito due nomi Tre in realtà Ruggeri Luca Pellegrini E Calafiodi Tra tutti e tre Quello che mi Diciamo Ispira Tra virgolette Perché nessuno dei tre Mi fa impazzire Non è quel nome Altisonante Io direi Matteo Ruggeri Dell'Atalanta Staremo a vedere Intanto Per ora Ciocquezza E del Milan Godiamoci questo momento Condividete il video Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Perché arriveranno Ovviamente Altri video Tra mercato in uscita Mercato in entrata Amichevoli E Ci vediamo A un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti